L'estate scorsa siamo rimasti molto colpiti dalle fotografie che inquadravano i profughi che cercavano di attraversare il confine a Ventimiglia, nei modi più strani, nei modi più rocamboleschi. Chi sotto un camion, chi dentro il cofano di una macchina, nei modi veramente più strampalati. Abbiamo trovato anche un articolo che parlava di rifugiati che cercavano di attraversare il confine dentro delle casse di legno, senza rivelare troppo ci ha ispirato a raccontare la storia di questo corto.